Musica Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a Casa Rossini, ancora una puntata di questa nostra trasmissione che è alla sua seconda stagione in questa edizione che prevede un ospite a puntata. Ci concentriamo su un unico ospite, l'ospite di oggi è Moreno Golinelli, socio di D&G Motorsport. Lo leggo anche se lo so a memoria, non lo so perché, ce l'ho qui sotto. Moreno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te. Allora, qualcuno dirà che cos'è, chi è, perché. Allora, spieghiamo bene. Noi abbiamo a lungo corteggiato D&G Motorsport da quando ha aperto a Pesaro perché volevamo saperne di più, volevamo qualcuno che ci venisse a raccontare, a spiegare come mai questa apertura nella nostra città, anche se la cosa ovviamente ci riempie di orgoglio perché noi siamo la città dei piloti motori e di conseguenza qualcosa del genere ce lo aspettavamo. però vogliamo sentirlo proprio dalla viva voce di Moreno che insieme a Franco Mingotti, ricordiamo, è la proprietà di questa D&G Motorsport. Sì, diciamo che la scelta di aprire a Pesaro è stata una cosa che è arrivata abbastanza improvvisamente da parte di Yamaha che ci ha proposto questa nuova avventura e noi come nel nostro stile le sfide ci piacciono e le abbiamo raccolte subito. Perché siamo stati investiti di questa missione? Perché Yamaha ha cambiato la sua strategia, vuole concessionari che riescano a mettere a terra quelle che sono le nuove idee per quello che riguarda il business moto e dopo averci un po' misurato sulla città di Carpi e la città di Rimini dove abbiamo ottenuto fin dall'apertura dei buoni risultati ci ha regalato questa opportunità che noi abbiamo colto al volo. Perché Pesaro? Perché Pesaro rappresenta dal punto di vista motociclistico una città molto importante. Consideriamo che le Marche sono la quarta regione per numero di moto vendute per numero di moto immatricolate come parco circolante e Pesaro rappresenta uno dei comuni più importanti a livello nazionale in quanto più del 50% delle persone guida una moto e il 20% dell'immatricolato sono motocicli quindi è una città sicuramente strategica e molto molto importante. La nostra idea è stata quella di aprire una sede che si differenziasse da tutto quello che c'è in circolazione per poter dare al cliente un'esperienza non solo di acquisto ma anche di mantenimento, di uso della moto e un'esperienza di guida della moto per tutto il periodo che terrà la moto che sia indimenticabile. Un po' il nostro obiettivo era quello. Voi quando dici moto e scooter perché noi siamo a Pesaro tra quelli che ancora tengono divise le due cose una cosa sono le moto, una cosa sono gli scooter. Allora quando dico moto intendo moto e scooter chiaro che la moto ha un peso nel immatricolato lo scooter ne ha un altro Pesaro è una città dove gli scooter sono diciamo molto molto venduti anche di più rispetto alle moto chiaro che parliamo di moto e di scooter lo dico perché è di questi ultimi tempi questo vostro partenariato con il rally delle Marche e lì invece si parlava proprio di moto nel vero senso della parola anzi proprio di un settore speciale di moto le vediamo nelle immagini moto tutto terreno che hanno fatto dei percorsi in tutta la regione era un rally nato da un'idea di un'organizzazione di un privato Sì, di Tamburini Tamburini che ha un'esperienza sull'Islanda però vi siete fatti coinvolgere subito proprio in questa logica, in questa filosofia un po' della vostra concessione Tamburini si è presentato da noi con questa idea noi l'abbiamo raccolta al volo perché identificava proprio la nostra mission ossia di creare qualcosa per il pubblico che fosse veramente coinvolgente e pensavamo che questa fosse l'idea giusta in effetti è stata molto interessante tant'è che pensiamo di riproporla l'anno prossimo dove vorremmo essere anche piloti noi stessi in modo diretto perché è stata un'esperienza sicuramente molto bella Quando ho fatto le interviste perché poi lo speciale durante lo speciale mi sono divertito appunto a fare le interviste era venuto fuori con il vostro direttore dei due punti vendita di Rimini e di Pesaro con Oscar Tasso era venuta fuori questa battuta che però poi alla fine è un po' la filosofia e te la giro l'idea è che l'acquisto non sia il punto di arrivo ma sia il punto di partenza di un rapporto col cliente Certo questo è il passo fondamentale dove al di là del processo di acquisto in salone dove il cliente in ogni concessionaria a Yamaha sul territorio nazionale dovrebbe trovare lo stesso layout lo stesso approccio le stesse motto in esposizione quello che oggi il dealer può fare la differenza è quella di dare al cliente un'esperienza di possesso che sia unica coinvolgendola attraverso tutte queste manifestazioni sul territorio piuttosto che gli eventi in concessionaria piuttosto che tutte le iniziative che si possono fare e qui ne stiamo pianificando veramente tante tra l'altro oltre ovviamente alla presenza del sindaco all'inaugurazione c'è un rapporto nascente intenso col territorio e con le istituzioni vi ho visto presenti agli stati generali del turismo anche alla stessa partenza delle rally delle marche non mancavano le istituzioni allo stesso concerto che è stato realizzato con quel risvolto benefico c'era comunque la presenza degli assessori del comune di Pesaro è qualcosa di più che essere semplicemente un negozio posizionato in una città sì appunto noi vogliamo essere parte integrante della comunità voglio ringraziare le istituzioni per la loro per la loro vicinanza e la possibilità che ci hanno dato di poter di poter dire la nostra già nell'evento che abbiamo fatto nel concerto di Alteria abbiamo proposto questa nuova iniziativa anche con l'appoggio delle istituzioni dove vogliamo andare verso un concetto di inclusione cercando di mettere in moto anche persone che hanno delle limitate capacità motorie attraverso appunto la possibilità di personalizzare le moto affinché loro possono guidarle nel modo più comodo e migliore possibile e appunto queste anche con l'associazione terapiloto e motori abbiamo un'iniziativa stiamo valutando un'iniziativa che va in questa direzione insomma la direzione dell'inclusione dove ci teniamo in quanto pensiamo che sia anche parte del nostro compito fare qualcosa per il territorio ma io credo che adesso noi ce lo stiamo dicendo ci sembra quasi una cosa ovvia però non è poi così ovvio e sono contento che venga sottolineato e sono contento che arrivi questa idea di una filosofia diversa da quella che appunto vado compro poi mi porto la moto a casa me la tengo e poi ci torno ahimè purtroppo quando devo andare a fare o perché c'è un guaio o devo andare a fare il tagliando qui si ribalta completamente tutto sì penso che la giusta filosofia il giusto approccio che dobbiamo avere è quello di non prendere solamente dal territorio che ci ospita ma anche di dare quindi di coinvolgere le persone cercando di dare attraverso iniziative attraverso sostegno alle iniziative che vengono proposte dalle varie istituzioni per essere parte integrante della comunità una cosa che mi incuriosisce è stata Yamaha a proporvi di venire a Pesaro o avete voi prima pensato a un terzo punto vendita su Pesaro e avete voi chiesto a Yamaha? allora guarda ti riassumo brevemente la storia di come nasce il progetto Yamaha perché come tu sai noi veniamo dal mondo automobilistico quindi siamo concessionari di auto e poi quasi per gioco siamo partiti con una piccola concessionaria a Carpi in quanto diciamo in quel periodo io ero io sono sempre stato motociclista però in quel periodo ero un po' più coinvolto perché mio figlio ha cominciato a fare il campionato dell'R3K allora quando il mio socio Franco fa ma ci sarebbe una piccola concessionaria a Carpi di moto ho detto ma dai forse è un segno del destino questo vediamolo e allora per gioco siamo partiti però siamo partiti come? prendendo questa piccola concessionaria che non era riconosciuta storica non era neanche più performante e l'abbiamo cercata di condurre con la mentalità che ci viene dal mondo auto con una serie di concetti che sono più tipici del mondo automobilistico dove ad esempio noi il service per noi è un punto è un pilastro importante la cura del service cioè se uno entra in officina da noi è quasi come entrasse in una clinica del tanto che c'è pulizia ordine i ponti tutti messi in un certo modo una cura particolare per la moto del cliente abbiamo messo sul campo alcuni di questi principi che erano proprio del settore auto e questo ci ha dato subito il primo anno una risposta veramente molto buona da parte dei nostri clienti in quanto abbiamo nel primo anno abbiamo addirittura raddoppiato il numero di moto che si vendevano prima allora Yamaha ci ha un po' guardato ci ha un po' seguito ha cercato di capire che cosa facciamo poi parlando con loro loro avevano già una visione prospettica di questo tipo volevano già andare in questa direzione le moto si vendono in concessionaria perché l'esperienza di acquisto del cliente deve essere particolare in concessionaria hai tutte le zone tematiche il racing piuttosto che l'urban dove devi vivere proprio un'esperienza non vogliono che la moto si venda nel saloncino non identificato che il cliente non abbia l'esperienza di acquisto giusta allora ci hanno proposto Rimini dove Rimini avevano un problema dove non si vendevano sufficientemente moto era un mercato difficile allora noi come nel nostro stile abbiamo detto dai prendiamo la sfida subito al volo e allora abbiamo impiantato una concessionaria da zero abbiamo cercato di creare un sistema che funzionasse e anche questo ci ha premiato tant'è che anche qui dopo poco più di un anno eravamo già a break even le moto più o meno si vendevano come a livello nazionale già allora anche lì abbiamo fatto una buona impressione poi anche il nostro sistema di marketing gli piaceva molto ma non che avessimo creato niente di nuovo ci portavamo il know-how che avevamo acquisito nel mondo auto quindi questo è un po' quello che ha fatto la differenza allora un giorno sono venuti giù è venuto giù la ministra del delegato e fa ma guarda noi ci piace un po' il vostro modello di business vorremmo creare qualcosa di veramente coinvolgente qualcosa che di futuristico ci serve un concessionario che abbia la possibilità di mettere a terra quello che è la nostra vision del futuro cioè le moto si vanno vendute però bisogna dare al cliente qualche cosa in più bisogna dare l'emozione di possedere una Yamaha nel tempo cioè seguire il cliente proporre degli eventi proporre cose che possono rendere il cliente fiero di possedere una Yamaha ma non per la moto in sé ma per tutto quello che dobbiamo essere capaci di creare intorno allora ci abbiamo pensato un po' perché la zona era una zona comunque che dove Yamaha era presente e poi abbiamo raccolto la sfida come il nostro stile certo non ci tiriamo mai indietro e siamo partiti abbiamo avuto la fortuna di trovare un posto bello tutto con una zona per il parcheggio una zona molto visibile e tutto quanto e siamo partiti abbiamo cercato di fare il meglio puntando noi puntiamo molto sull'immagine dello showroom ma soprattutto è l'officina che deve conquistare il cliente l'officina per noi è il punto principale anche perché diciamo che io vengo da io quando ero ragazzo facevo il meccanico insieme a mio papà noi stavamo le moto le macchine poi mi sono messo un po' nel commercio però noi abbiamo nel nostro DNA una cura particolare per quello che riguarda il service infatti se tu vieni a vedere le nostre sedi sono tutte quante uguali con i punti precisi non ci deve essere una virgola fuori posto tutte le chiavi sul suo posto noi siamo maniaci di questa cosa qua e siamo maniaci anche per quello che riguarda le competenze del nostro personale perché vogliamo che sia sempre tutto perfetto perché uno ci affida la moto quindi ci affida un po' anche la sua vita in mano perché la moto tu sai quando la moto esce deve essere non perfetta ma di più quindi noi ci teniamo molto a ribadire questo principio qua cioè è proprio nel nostro DNA e infatti è più bella l'officina dello show quasi guarda da motociclista ti posso dire che mentre ti ascoltavo tiravo un sospiro di sollievo perché in effetti è quella la chiave cioè il punto fondamentale è quello il venire a portare la moto in officina non deve essere un momento di tristezza non deve essere un momento di preoccupazione ma deve essere un bel momento in cui uno incarica qualcun altro di accudire una cosa preziosa perché poi al di là di tutto cioè le moto costano anche parecchio le seguiamo con molta attenzione io mi metto al plurale perché sono motociclista anch'io le curiamo con molta attenzione e a quel punto quando le portiamo in mano qualcun altro quello che ci aspettiamo è proprio quello e questa cosa qua secondo me hai ragione è quella che fa veramente la differenza non solo dal punto di vista ti aggiungo un elemento non solo dal punto di vista del layout che ovviamente è ottenibile e del personale che è una cura particolare ma proprio del rapporto umano certo perché quasi più che nella vendita visto che ormai la vendita diciamo è una cosa che arriva al termine di un percorso che spesso parte a casa uno guarda su internet sceglie il modello poi lo viene a vedere non si può più provare una volta si provava adesso non si può più provare a parte i test ride assolutamente noi si provano le moto anzi ci teniamo che vengano provate sì anche sul nuovo molto bene diciamo che arriva al termine di un percorso per fare iniziare il percorso successivo quello che conta ed è fondamentale il rapporto umano del dopo insomma come hai detto giustamente tu oggi il processo di vendita grazie a internet viene fatto in buona parte sulle piattaforme di internet anche perché sono fatte molto bene quindi uno un cliente entra già in concessionaria con l'idea molto precisa di quello che vuole ecco chiaro che quello che tecnicamente si chiama touch and feel cioè metto il culo sulla moto vado in strada e la provo è quello che fa la differenza per questo ci teniamo che i clienti le provino le nostre moto abbiamo tutta la gamma a disposizione per questo ma conclusa questa prima fase come giustamente dici tu si apre un mondo perché alla fine ok io posso ottenere il prezzo migliore oggi posso dispagnare i 50 euro però se dopo cosa succede dopo è un'incognita posso avere qualche pensiero qualche perplessità oggi le moto sono molto complicate nel senso che l'elettronica fa da padrone e bisogna essere in grado bisogna essere competenti magari ci riesce anche il meccanico sotto casa però ci mette il doppio di tempo non sai il lavoro se viene fatto secondo le regole della casa madre noi abbiamo personale che tutti i mesi ha delle ore di corso obbligatorie da fare per rimanere aggiornato sul prodotto tanto è l'evoluzione continua che c'è quindi diciamo che il fatto di fornire un servizio di assistenza che sia il top sicuramente era il nostro dal mio punto di vista la concessionaria ha un patrimonio che può solo disperdere il patrimonio di essere la concessionaria di avere comunque questo piccolo percorso iniziale del piccolo lungo della garanzia per cui tendenzialmente durante il periodo della garanzia i tagliandi e tutto il resto si vanno a fare in concessionaria ecco in quella fase lì si gioca la partita perché se in quella fase lì quasi obbligatoria lo dico con tutta la bontà nel termine in quella fase quasi obbligatoria si gioca la partita perché se in quella fase la concessionaria riesce a far innamorare poi il cliente di tutto quello che è la filosofia e allora lo mantiene altrimenti appena può scappa insomma questo è il punto certo è appunto questo noi non vogliamo che il cliente sia obbligato a venire in concessionaria perché rappresentiamo il marchio e punto noi vogliamo che il cliente ci scelga per la nostra competenza per la nostra capacità di coinvolgerlo e per il servizio che gli diamo cioè il cliente deve essere lui che ci sceglie non deve avere l'obbligo di venire in concessionaria perché questo altrimenti è un fallimento per noi ecco perché sicuramente come dici tu nel momento che si interrompe il periodo di garanzia il cliente viene perso sono molto contento di aver avuto l'opportunità di fare questa chiacchierata che incredibilmente sta già volgendo quasi al termine perché sono stato uno di quelli che passando sugli interquartieri avanti e indietro ho seguito e vedevo esatto e vedevo tutto l'evoluzione dicevo devo attivarmi dobbiamo fare qualcosa deve nascere qualcosa tra noi che siamo comunque come emittente una delle espressioni del territorio che secondo me può essere anche utile a ottenere quei risultati di cui voi parlate e voi che arrivate su un territorio per scelta a questo punto come l'avete trovato nel senso ve l'aspettavate così la nostra città oppure vi ha stupito a questo punto se dici prima sono passato qualche volta e non avevo esattamente conosciuto questa città Pesaro come posso conoscerla adesso devo dire che mi ha sorpreso bene mi ha sorpreso positivamente a parte la città bellissima ma soprattutto la gente il calore delle persone e constatare che sono persone con una mentalità molto simile alla nostra cioè parliamo di gente che vive con l'industria il turismo gente che è abituata a lavorare 12 mesi all'anno gente che comunque è con i piedi per terra sognatori come noi perché comunque vedo che si lasciano coinvolgere tantissimo dalle iniziative che facciamo però gente con i piedi per terra ecco che comunque sa quello che vuole molto competenti nel mondo motociclistico anche perché stiamo parlando di una città alla cui industria fa parte anche il mondo motociclistico devo dire che la risposta della gente è stata veramente molto positiva e ho trovato gente veramente fantastica Moreno io ti ringrazio non abbiamo parlato ma era quasi superfluo di Valentino che chiaramente è il riferimento Yamaha e non solo per il nostro territorio per tutto il discorso delle moto ma non l'ho fatto e non mi rammarico sai perché? perché voglio invitarvi a un'altra occasione per cui magari con l'occasione verrà anche Franco ho paura di qualcun altro delle persone che noi incontriamo poi tutti i giorni quando andiamo in concessionaria conosceremo mi auguro piano piano anche attraverso faremo conoscere anche attraverso i nostri canali di Rossini TV la vostra concessionaria ci racconterò di tutti gli eventi che abbiamo in programma di fare perfetto ci piacerebbe farne parte bene allora grazie ancora Moreno Golinelli socio di D&G Motorsport concessionaria per Pesaro e provincia della Yamaha ci racconterà poi un giorno tante altre storie di questa loro attività e noi ringraziamo tutti i nostri telespettatori per essere stati con noi diamo un appuntamento a una prossima puntata di Casa Rossini ringraziamo ancora Moreno e a presto grazie